Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Il 2023 ha segnato l'atteso debutto di Ballando con le stelle, con un tocco di ironia che ha fatto ridere tutti in studio. Al centro dell'attenzione c'era l'abito blu indossato da Millie Carlucci, che ha subito attirato l'attenzione dei presenti. Selvaggia Lucarelli, membro della giuria, in tono scherzoso ha fatto notare, non è un blu estorilvero, riferendosi a un recente gossip diventato virale. Mariotto ha scherzato dicendo che è un blu royal. Proprio come quello della regina Elisabetta. Lucarelli, sempre tagliente nei suoi commenti, ha aggiunto, e non è blucina. Millie Carlucci ha concluso l'argomento affermando con un sorriso, è decisamente blu royal. Tuttavia, dietro questa conversazione scherzosa, c'era un riferimento a una recente polemica riguardante il giornalista Andrea Giambruno. Selvaggia Lucarelli, sempre diretta nei suoi commenti, ha criticato il comportamento del giornalista in seguito allo scandalo. Giambruno, a seguito di questi eventi, aveva deciso di prendersi una pausa dal programma televisivo Diario del Giorno, da lui condotto su Rete4. Antonio Ricci, dietro le quinte di, striscia la notizia. Ha voluto chiarire con un comunicato ufficiale che non ci sono state pressioni politiche dietro la decisione di mandare in onda i filmati su Giambruno. La scelta è stata presa esclusivamente editoriali.